Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia, come saprete la Commissione elettorale centrale russa ieri sera ha diffuso i primi risultati del riconteggio delle elezioni presidenziali con il 77,65% dello spoglio completato. L'attuale presidente Vladimir Putin ottiene l'87,14% dei voti. I dati definitivi non potranno che confermare questo risultato scontato, ma significativo per vari motivi. Nel video notiziale di oggi, oltre a fare alcune riflessioni che riguardano tutti noi, collegheremo questo risultato con alcuni fatti sorprendenti, ottenendo così alla fine un quadro nitido della situazione macro-politica. Putin si è rivolto alla popolazione del paese dopo la pubblicazione dei primi risultati e ha ringraziato tutti i cittadini russi che hanno votato a queste elezioni e ha affermato «l'unica fonte di potere nel paese è il popolo russo», aggiungendo che il voto di ogni cittadino conta quando si tratta di tracciare il corso della nazione. Facciamo una considerazione partendo da queste parole del leader russo. Nelle nuove regioni russe, con il 100% dei voti scrutinati, l'attuale presidente ha ottenuto il 95,23% dei consensi nella Repubblica Popolare di Donetsk, il 94,12% nella Repubblica Popolare di Lugansk, l'88,12% nella provincia di Kherson e il 92,83% nella provincia di Zaporizie. Cosa significano questi risultati? Il popolo si è espresso quasi unanimemente a favore di Putin. Questo potrebbe anche essere visto come un'esplicita conferma di assenso all'annessione alla Russia. Ora, credete sia giusto andare contro la volontà popolare? Oltre il 90% dei votanti si è abbastanza esplicitamente dichiarata felice di essere annessa alla Russia. Putin ha definito i russi una famiglia e ha assicurato che tutti gli obiettivi della Federazione russa saranno raggiunti. Riflettiamo su un altro particolare. L'attuale risultato ottenuto da Putin ha superato il precedente massimo del 77% di sostegno ricevuto dal presidente nelle elezioni del 2018, confermando quindi che la stragrande maggioranza dei russi approva la cosiddetta operazione militare speciale. Deduzione confermata anche dall'affluenza preliminare alle urne, che è stata del 74,22%, la più grande in oltre tre decenni, secondo i dati della Commissione elettorale centrale mostrati dalla TV di Stato. In effetti colpisce il fatto che, mentre nel mondo occidentale l'affluenza alle urne va scemando, in Russia è stata la più alta da quando Boris Yeltsin è diventato presidente nel 1991 dopo il crollo dell'Unione Sovietica e ben al di sopra dell'affluenza alle urne del 67,5% registrata nel 2018. Il fatto che Putin abbia ottenuto un apprezzamento popolare dell'87% dei votanti fa ritenere che il popolo russo sia ben contento dei risultati ottenuti in oltre due decenni del suo governo. Il giornalista Tucker Carlson, che ha visitato Mosca in occasione dell'intervista al presidente russo, è rimasto impressionato dall'ordine e dalla pulizia della città, senza paragoni rispetto al degrado delle metropoli americane. Anche questo è indice di buon governo. Un risultato di oltre l'80% di apprezzamento dei votanti è stato ottenuto anche dal presidente di El Salvador, Bukele, anche egli molto apprezzato dal popolo per i buoni risultati ottenuti, soprattutto nello sconfiggere la criminalità che devastava il paese. Un'altra riflessione che si può fare è che nessun leader europeo potrà mai raggiungere questi risultati finché seguirà l'agenda del World Economic Forum e dell'ONU imposta dalla Commissione von der Leyen. Il motivo è intuibile. È un'agenda antipopolo e pro-élite di Davos. Nel frattempo ci sono paesi che hanno trovato il coraggio e la forza per cacciare i colonizzatori occidentali. Dopo che le nazioni africane del Sahel hanno improvvisamente e rapidamente cacciato la potenza coloniale francese, il portavoce dell'Aggiunta Militare del Niger, il Maggiore Amadou Abdramane, ha affermato chiaramente, senza alcun margine di interpretazione, le basi americane e il personale civile non possono più rimanere sul suolo nigerino. Parole intrepide che non temono le ritorsioni di quella che è o che era la prima potenza militare al mondo. Fino a poco tempo fa gli Stati Uniti e la Francia avevano più di 2.500 militari nella regione e, insieme ad altri paesi europei, avevano investito centinaia di milioni di dollari in assistenza e addestramento militare. Potete vedere il video integrale sul nostro canale Telegram Dentro la Notizia. Iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate, potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby.